benvenuti o bentornati sul mio canale io sono francesca e oggi vediamo insieme come prendo appunti sull'ipad pro il mio ipad è del 2017 per questo che vedete un ipad un pochino vecchio perché è quello lo utilizzo praticamente da anni e funziona funziona non alla perfezione inizia a perdere un po i colpi però ancora è abbastanza funzionale e lo posso ancora utilizzare per prendere appunti quindi finché va ne approfitto i miei appunti invece riguardano più che altro corsi che seguo perché io non sono una studentessa non sto studiando non sono universitaria quindi quello che studio viene principalmente da corsi che seguo online oppure webinar che seguo di cui prendo gli appunti e poi li vado a riportare sul mio ipad l'applicazione che utilizzo per seguire i corsi è udemy un'applicazione comodissima ci trovo un sacco di corsi carini e interessanti molti sono anche gratuiti e tra l'altro ho anche creato il mio corso che ho caricato su udemy ho creato un corso bullet journal per principianti perché se non lo sapete se mi avete trovata grazie a questo video sul mio canale io porto prevalentemente contenuti legati al bullet journal organizzazione e produttività quindi dopo quasi dieci anni di utilizzo del metodo bullet journal mi sono sentita finalmente pronta per creare il mio corso bullet journal per principianti e la piattaforma ideale è stata proprio udemy perché è una piattaforma che conosco è una piattaforma su cui seguo dei corsi quindi perfetta mentre gli appunti li prendo sull'applicazione good notes ce ne sono diverse in realtà per prendere appunti e ho fatto anche un video al riguardo proprio un video in cui vi mostro sei applicazioni per prendere appunti digitali ma io ho iniziato con good notes mi trovo benissimo con good notes al momento sto utilizzando good notes 5 ho provato per un periodo good notes 6 però non l'ho comprato alla fine perché mi basta il 5 per quello che devo farci io quindi continuo ad utilizzare lui ho tutti i miei taccuini su good notes ogni volta che appunto inizio un nuovo corso vado a creare un nuovo taccuino e diciamo che seguire i corsi e prendere appunti per me è un po' un rituale infatti come avete visto inizio andando a pulire lo schermo dell'ipad spengo silenzio comunque tolgo gli altri dispositivi per essere concentrata solo sullo studio e mi accendo anche una candela perché per me è proprio un momento rilassante è un momento dedicato a me non essendo una studentessa appunto quindi non dovendo studiare per forza tra virgolette questi momenti li prendo come un momento per aumentare il mio livello di cultura per aumentare le mie conoscenze per essere sempre aggiornata su cose nuove che riguardano il mio lavoro ma anche altro e quindi davvero per me è un momento di relax questo video comunque può essere utile anche a chi studia davvero con l'ipad anzi spero che vi sia utile quindi come potete vedere io all'inizio prendo gli appunti un po così alla rinfusa scrivo che non riesco neanche a capire quello che scrivo perché appunto lo faccio velocemente quindi appena sento delle cose che mi colpiscono che so che devo scrivere per ricordarle le scrivo così come vengono dopodiché vado a ricopiare in bella quindi questa è la brutta inizio facendo una brutta copia poi vado a ricopiare in bella magari prendo un'altra pagina oppure mi sposto quello che ho appena scritto in basso e vado a riscriverlo e faccio questo praticamente sempre a volte mi capita di farlo su fogli normali fogli di carta però poi li vado a ricopiare su good notes perché è proprio lì che tengo tutti i miei tacquini in cui segno le cose che studio ed è comodissimo proprio per questo per non avere miliardi di fogli sparsi per tutta la casa con scritte cose varie inizio scrivendole in brutta e poi su good notes le risistemo per bene ma da qualche tempo sto utilizzando anche questa tastiera che fa parte proprio di questa cover che vedete è praticamente cover in cui ci va l'ipad la penna e c'è anche integrata la tastiera se riesco a ritrovare il link mi sembra di averla presa su amazon se riesco a ritrovare il link ve lo lascio nella descrizione del video che comunque vi può essere utile quindi collego la tastiera all'ipad tramite bluetooth e vado semplicemente a scrivere come se fosse un computer è veramente molto comoda perché posso utilizzarlo sia sulla scrivania sia sul letto io spesso studio sul letto lo so che non dovrei farlo lo so che è scomodo che fa male per la schiena per la postura e tutto però sì a volte io mi metto sul letto e mi seguo i corsi in questo modo e scrivo in questo modo però devo dire che questa tastiera è molto comoda anche per studiare sul letto io banalmente mi metto praticamente il cuscino quello che ho per il computer che è un cuscino morbido però ha una parte piana sopra quindi una specie di tavolino da letto di solito ci appoggio sopra il computer quando appunto lavoro dal letto dal divano però quando voglio prendere appunti ci appoggio sopra l'ipad con la tastiera e mi trovo benissimo così altre volte invece faccio la persona seria la studentessa seria e mi siedo alla scrivania per studiare e per prendere appunti una volta finito di scrivere tutti gli appunti li vado a riorganizzare quindi torno ad utilizzare la apple pencil e vado ad aggiungerci magari delle sottolineature ci aggiungo degli adesivi degli sticker delle cose per evidenziare appunto delle parole importanti dei concetti importanti e tra l'altro ho portato qui sul canale a parte diversi video su good notes di cui ho fatto proprio una playlist specifica ci sono dei video in cui vi mostro come importare degli sticker su good notes tutte le nuove funzionalità andiamo a spulciare questa applicazione per bene proprio perché l'applicazione che utilizzo e che conosco meglio e ho creato anche dei template dei taccuini dei planner da importare proprio in good notes quindi vi rimando anche al mio sito www.franceschialpini.it in cui appunto trovate tutti i contenuti digitali sono tutti i prodotti digitali che potete o scaricare acquistare scaricare e stampare oppure utilizzare in digitale su ipad o tablet quindi spero che questo video vi sia stato utile vi abbia dato un po di ispirazione per i vostri momenti di studio non li prendete sempre qualcosa da fare obbligatoriamente come qualcosa di pesante ma cercate di rendere questi momenti nei momenti piacevoli come faccio io mi accendo la candela mi spengo il telefono e mi dedico a questo lo rendo un momento per me quindi spero che questo video vi sia piaciuto ne avevo fatto anche un altro un po di tempo fa che vi lascio comunque nelle schede o nella descrizione del video però ho pensato di rifarlo proprio perché alcune cose sono cambiate ho aggiornato il mio metodo di studio e il modo in cui prendo appunti su good notes quindi ne ho fatto ecco questa versione aggiornata vi ringrazio per la visione vi invito ad iscrivervi al canale per altri contenuti su organizzazione e produttività sia cartacea che digitale e ci vediamo nel prossimo video ciao